Leo, mi racconti una storia del topodopo? Dopo? Allora dico alla mamma che il 13 marzo alle 11.45 hai preso una nota per aver giocato a Stambul Guys in classe. Va bene Tina, ti ricordi che il topodopo era andato dal dottore Anguria? Sì? Sì, aveva parlato con un topinambur. Era un topinambur? Topodopo, i tuoi problemi derivano dal bisnonno toponauta, perché lui arrivava sempre prima. Quando uno della famiglia era in ritardo, lui si arrabbiava tantissimo. Tutti avevano paura del bisnonno. Ah, ho capito. E così il povero topodopo somatizzò questo problema. Forse o forse no. In fondo il topodopo stava parlando con una pianta, non con il dottore Anguria.